Buongiorno e benvenuti a Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa che iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Andiamo a vedere il centro, la prima pagina che osserviamo è quella dell'edizione di Pescara, arrestata la squillo malata di IDS, il titolo di apertura, l'accusa la prostituta, tentate lesioni gravissime, l'ex convivente dice mi ha nascosto la malattia. E poi a centro pagina cronaca di un suicidio annunciato dopo l'omicidio dell'oncologa, così si è tolto la vita l'assassino. Nelle cronache proposta del sindaco, torniamo a Pescara, Alessandrini, Riviera Senz'Auto nei weekend, poi Teodoro blocca il consiglio ed è bagarre e ancora allarme Montesilvano, turisti in calo fino al 20%. Accade in Abruzzo, eccellenze, l'Europa scopre i vini di OCG del Terramano e i grandi appalti, Fondovalle Sangro, slitta l'apertura delle buste. Nel taglio basso, approvati nuovi codici disciplinari, ASL di Pescara, multe per le liti in ufficio, sanzioni di 500 euro ai dirigenti aggressivi con il pubblico. Nel taglio alto, tragica fine, esplode bomboletta spray, morta la blogger Rebecca e ancora a fessicità, caldo record fino a lunedì, previsti anche 40 gradi. Continuiamo con la lettura delle prime pagine del quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere la prima di Chieti, Lanciano Vasto. Radioterapia attese di sei mesi, rotto da maggio a Chieti uno dei macchinari per 300 pazienti, slittano le cure. E poi ritroviamo a centropagina il delitto di Santomero, nelle cronache a Lanciano ZTL multe alle auto anche durante i funerali. E poi da Chieti mette foto Ose della ex in rete, viene condannato Dogliola, giallo del fienile incendiato durante la festa. Nel taglio basso, San Salvo, anche il vice sindaco e donna, Magnacca sceglie la Travaglini e Aortona, gli ultimi appelli prima del voto di domenica. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, questa è la prima di Teramo. L'assassino di Esther si è suicidato, il titolo con cui viene aperto il giornale. Di Luca trovato strangolato in strada, l'avvocato dell'oncologa le hanno negato la protezione, richiamando così le polemiche su questo ennesimo femminicidio e sui provvedimenti per combattere il fenomeno. Nelle cronache, altro omicidio, quello di Alba, il 22enne ucciso, letale il colpo al cuore, ritrovato il pugnale. Poi la crisi al comune di Teramo, crisi infinita, ora brucchi e senza maggioranza. Giulia Nova, la Pagliaccetti è una scuola da demolire. Nel taglio basso, la ragazza trovata morta in A14, invocano giustizia per Giulia, sit-in di familiari ed amici davanti al Tribunale di Teramo. Continuiamo ancora con il quotidiano Il Centro, l'ultima delle prime pagine, quella di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. Ballottaggio, confronto finale, ovviamente si parla delle elezioni amministrative nel capoluogo di regione. L'Aquila, Berlusconi, Forza Italia, uniti per biondi. Ricchetti delle PD vincerà di benedetto, questi gli ultimi appelli nel rush finale di oggi. Poi nelle cronache ad Avezzano, di Pangrazio e di Angeli, seccaccia ai voti dei 5 Stelle, per quanto riguarda ancora le amministrative, questa volta nella città marsicana. Ancora dal capoluogo invece, case in fiamme, giovane salvo per miracolo, e ancora l'incidente, massi sull'auto, allarme frana a Castella Fiume. Nel taglio basso, con Casini, città, lo sbando, Sulmona, il sindaco replica l'opposizione, gara allo sfascio, questa la guerra dei manifesti. Andiamo avanti sempre con i quotidiani regionali, ma adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Lo stalker trovato strangolato, il titolo di apertura ovviamente sull'omicidio di Santomero, oncologo uccisa, Enrico Di Luca suicida in una casa per le vacanze, il cadavere sotto il letto aveva delle striscette da elettricista strette intorno al collo. E poi la denuncia, gli ultimi sms inviati dall'ex 007 a Esther, senza di te la mia vita è buio totale. Ancora a centropagina, Incupo Aiz, la donna arrestata, appello della polizia, prostituta con l'HIV, 100 clienti sarebbero in pericolo. È stata arrestata la prostituta affetta da HIV che frequentava la stazione centrale di Pescara, avrebbe nascosto ai clienti e al suo stesso compagno, oggi non più fidanzato, di essere contagiata. E ancora, è stata blindata a Pescara Movida a rischio, già cancellata la festa di Radio Delta 1, in vista a altre misure per la sicurezza, con le direttive del capo della polizia, Franco Gabrielli e del Ministero dell'Interno. Scendiamo nel taglio basso, Canistro, Acqua Santa Croce, Flacco indagata dopo le accuse e le denunce dell'imprenditore molisano Camilo Colella, ex patron dell'Acqua Santa Croce. Arriva la risposta degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, difensori di Iris Flacco, che è stata indagata dalla procura di Avezzano a seguito di denuncia della società sorgente Santa Croce per le attività esercitate dalla stessa in qualità di dirigente del Servizio Risorse del Territorio e attività estrattive della regione Abruzzo. In ordine, le ispezioni che hanno condotto alla confisca di 8 milioni di acqua minerale imbottigliata senza titolo concessorio. Di spalla, la vertenza Abruzzo ripresina senza lavoro, persi altri 18 mila posti. La CGL torna a chiedere sostegno per le piccole imprese con i dati che non dicono nulla di buono per quanto riguarda l'occupazione. Nel taglio alto, Lanciano, multe durante i funerali, via allo sciopero del caro estinto e poi Tortoreto, Giudal, Viadotto, i genitori di Giulia non vogliono l'archiviazione del procedimento penale. Per il calcio, l'ex DS del Pescara, Andrea Iaconi, Mi fido del nuovo Pescara, Zeman è una garanzia per il gioco, Mancuse e proietti pronti per la B, via Brugman, Bruno prosciolto dall'inchiesta ai tempi del Latina. Questo per quanto riguarda la prima del messaggero. Adesso invece andiamo a vedere insieme la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. Ovviamente l'apertura è dedicata all'omicidio di Sant'Omero, l'assassino è morto o suicida. Il titolo, l'investigatore privato Enrico Di Luca, 69 anni, era ricercato per l'omicidio della dottoressa Esther Pasqualoni e poi si è strangolato con una fascetta nella fotonotizia il corpo del presunto omicidio trovato nel suo ex appartamento. Intanto a Roseto è lutto cittadino per i funerali dell'oncologa, il delitto ha scosso la comunità teramana, sit-in e cordoglio unanime. Il sit-in è avvenuto ieri anche nel capoluogo a Teramo. Nel taglio alto due dissidenti passano all'opposizione, siamo alla politica, il sindaco Brucchi non ha più numeri, la crisi a Teramo si rimette in moto la macchina delle dimissioni anticipate. Ancora da Alba Adriatica la cronaca, delitto del Rom trovato il coltello dell'albanese. Nel taglio basso il ministro Fedeli, libri di testo gratuiti nel cratere e poi per di spettacoli After Hours e Pino Insegno, Big dell'estate pinetese con 160 eventi e manifestazioni. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso invece andiamo ad aprire lo spazio dedicato alla Nazionale andando a vedere i principali quotidiani e i loro titoli. Il Corriere della Sera, Londra, apre sui cittadini dell'Unione Europea. May ha i leader europei, piano per garantire i diritti, intesa sulla difesa comune. Il vertice incontro Merkel-Macron, prorogate le sanzioni contro Mosca, Gentiloni, missione in Libia. Poi siamo nei giorni dell'esame di Stato e quindi il fondo di Maurizio Ferrara, scuola e lavoro, consigli ai giovani e non solo. E poi a centropagina, quella terra senza pioggia, allarme acqua potabile, Italia, siccità dal Friuli alla Sicilia, stato di emergenza a Piacenza e Parma, problemi aggiungiamo noi anche nella capitale con il sindaco Raggi pronto a razionare l'acqua con una ordinanza. Nel taglio basso il caffè di Massimo Gramellini, morire di morbillo a sette anni è quello che è accaduto a Monza e poi più avanti nella rassegna. Vedremo altri titoli su questo argomento. Proseguiamo con La Repubblica. Il titolo Banca e Bruxelles verso il sì al salvataggio del Venete. L'offerta di intesa San Paolo, Gentiloni tratta con Juncker, Renzi dice, e il male minore. E poi le storie al rallentatore, lo sgomento e la paura, un fotoreporter nel cuore della guerra all'Isis, Mosul, ultimo atto, i volti dei sepolti vivi nella battaglia finale. Le città al voto, a Genova sfida, destra-sinistra sul degrado in chiave Kic. Poi l'emergenza, l'Italia senza acqua, centro-nord a secco e Roma studia il razionamento, come vi ho anticipato in precedenza. Proseguiamo sulla stampa. Il quotidiano di Torino. Il PIL segna più 1,2%, la media nazionale allo 0,9%. Crescita, il boom del nord-est trascina il paese dagli occhiali alla moda. Il rilancio è tornato con l'export e acquisizioni, ma la crisi è durata oltre dieci anni. La grande siccità unisce l'Italia. Nella fotonotizia, stato di emergenza in Emilia, Roma acqua razionata per orti e piscine, mare troppo caldo. Addio Brezza in Liguria, questo per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Nel taglio basso, così Casaleggio istruiva la Raggi, il leader 5 Stelle le scriveva che cosa fare. Caso Marra, una chat, smentisce la sindaca di Roma. Andiamo sul fatto quotidiano. Vaccini, legge piena di sbuchi. Lorenzin, in Senato, il servizio bilancio, svela che parte del decreto non ha le coperture. Intanto a Monza, un bimbo leucemico, muore di morbillo, contagiato dai fratelli. Vedete, il fatto pone in primo piano questa notizia. Poi, banche rotte tra inchieste e salvataggi, Ubi processate e Bazzoli. Venete, panico del ministro Padoan. Nel taglio alto, il caldo record disarmati per la siccità, mai così pochi pompieri, ma la vera paura adesso sono gli incendi. E poi Scafarto passò le carte all'intelligence dell'Aise. Il caso Consip, l'ufficiale del Noe, accusato di rivelazione di segreto. Adesso il messaggero. Agenzie dell'Unione Europea, asse contro l'Italia. Patto Merkel-Macron sulle sedi che lasceranno Londra. Farmaco Allil, finanza Francoforte. Banche Venete, intanto, primo ok al salvataggio. Nuove sanzioni invece ai russi. Brexit, Theresa May, apre ai residenti da cinque anni. E poi la grande siccità anche sul messaggero. Non piove da molti mesi, il caldo torrido non darà tregua. Allarme, colture e allevamenti. Un miliardo di danni. Emergenza in pianura padana. Ordinanza a Roma. E restiamo ancora a Roma. Le nomine di Marra. Virginia, non ti ho mai nascosto nulla. Le chat intercettate. In Campidoglio decide tutto lui. Le accuse allo staff del sindaco Raggi. Invece il tema della politica. Modifiche votate anche con Forza Italia e 5 Stelle. Concorrenza, nuovo rinvio per la legge. Scontro tra PD e il ministro Calenda. Attenzioni sul governo Gentiloni. Proseguiamo con il tempo. Le intercettazioni di Marra su Grillo. Le carte dell'inchiesta mi vogliono tenere lontano da Beppe, se no esco sottosegretario. Poi sulla Lombardi e la più bastarde. Sul mini direttorio ho tanto materiale contro di loro. Queste sono le carte dell'inchiesta. E poi a centropagina i Rom tra i rifiuti ci costano 2 milioni per raccogliere l'imbondizia buttata in strada dai rovistatori. Il quotidiano romano ovviamente pone sempre molta attenzione su quello che accade nella capitale. Andiamo sul manifesto. Ora scuola di tortura. Il titolo di apertura alla Corte Europea dei Diritti Umani condanna di nuovo l'Italia per la macelleria messicana di Genova 2001 compiuta dalle forze dell'ordine nella Diaz. Prevedibile e non evitata. E la Camera accelera sulla legge per il reato di tortura che il Consiglio d'Europa chiede di cambiare. Lunedì arriverà in aula senza correzioni. Nel taglio alto Mattarella frena sui nuovi voucher. Il collo chiede chiarimenti a Palazzo Chigi che risponde presto una circolare anti-abusi. Ora andiamo su Libero. Dunque cambiamo versante politico. In un anno 1488 scioperi. Titolo differente per il quotidiano diretto da Vittorio Feltri che punta l'attenzione su un altro record mondiale come scrive Dell'Italia. Calano i posti fissi e crescono le braccia concerte. Le maestranze si astengono sempre più dal poco lavoro rimasto danneggiando i cittadini che si danno da fare. Il PD dice che vuole riformare il sistema ma in Parlamento insabbia tutto. E poi a centropagina. Tequila Boom Boom. George Clooney guadagna un miliardo con l'alcol. Ancora avanti il giornale. Tragedia Monza a morire a sei anni di morbillo. I genitori non avevano vaccinato i fratelli. Lui già malato non ha retto al contagio. O altro che Novax. Il decreto serve. E da subito questa la posizione del giornale. Andiamo sulla verità. Rissa tra istituzioni. Il titolo di apertura. La guerra dei Renziani a Banca Italia per coprire le magagne di Banca Etruria. Le intercettazioni tra consoli Veneto Banca e Pierluigi Boschi vicepresidente dell'istituto Aretino svelano il tentativo di fermare la vigilanza. Ma Visco l'aveva giurata all'allora premier anche per il taglio allo stipendio. Il titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi a centropagina. Truccati i numeri degli sbarchi. Ne arriveranno 400 mila. le carte segrete della polizia. Le elezioni comunali. Ai ballottaggi il PD ha paura della sinistra. Nelle urne i franchi elettori bersaniani potrebbero tifare centrodestra per colpire il segretario. Ora il dubbio. Le due facce del super procuratore carcere duro e cannabis libera. La relazione del capo della direzione nazionale antimafia Franco Roberti. E poi ecco le nuove norme sul voto per i consigli. Sì definitivo alla Camera. Gli ordini degli avvocati hanno una legge elettorale. Continuiamo con il secolo XIX. Il quotidiano genovese. Siccità record. Scatta lo stato di emergenza. Il titolo di apertura. Emilia decreto del governo. Acqua lumicino in molte regioni. La temperatura del Mar Ligure è 6 gradi sopra la media. E poi altra notizia che si collega a quanto accaduto anche in Abruzzo. Genova uccide il marito a coltellate e poi minaccia il suicidio. L'uomo aveva 35 anni e era già stato denunciato per maltrattamenti. e quindi questa è la storia per certi versi simile ma di segno opposto a quanto accaduto invece in Abruzzo. Continuiamo con il mattino di Napoli. Meno vaccini. Boom di morti nei primi due mesi dell'anno. 23 mila decessi in più. Bimbo ucciso dal morbillo. Abbiamo visto a Monza. E il record negativo di sempre. Gli epidemiologi troppi italiani non si curano. Maglia nera al Lazio. E poi a centropagina. In cella i re della Movida. Amici dei calciatori. Fratelli Esposito. Gestivano locali della Camorra. Gli azzurri. Ospiti VIP. Questo per quanto riguarda il mattino di Napoli. E poi l'avvenire. L'Unione Europea alza la guardia. Intesa sulla difesa comune contro il terrorismo. Gentiloni ma sui migranti serve più impegno. Il Consiglio Europeo. Il Premier sollecita investimenti in Libia. Stretta sulla propaganda jihadista. Rinnovate le sanzioni invece alla Russia. La gazzetta del Mezzogiorno. Migranti. Gentiloni sfida l'Unione Europea. L'Italia vuole maggiori interventi economici da parte di Bruxelles. Salvini corteggia i grillini e chiede a Berlusconi di non demonizzarli. Il quotidiano pugliese pone in primo piano anche un'altra notizia. Uccide la moglie malata e poi si toglie la vita. L'uomo 78 anni ha chiesto perdono ai figli attraverso una lettera. La donna aveva 82 anni ed è stata strangolata. Il Gazzettino. Il quotidiano del Nord-Est apre invece con l'economia. Banche Venete. Lo scoglio dell'Europa. Dubbi di Bruxelles sull'operazione. In particolare il nodo degli alti costi a carico dello Stato. Zai è il governatore del Veneto. Bene il piano intesa. È un passo decisivo ma ci sono punti non chiari. Il governo deve spiegare. Poi Monza ha la leucemia. Muore di morbillo. Contagiato dai fratelli che non erano vaccinati. Il ministro Lorenzin dice bisogna rispettare ciò che dice la scienza. Nel taglio alto delitto di Isabella. Trent'anni ai fratelli sorgato. Continuiamo con la lettura dei quotidiani nazionali. Adesso apriamo quelli economico-finanziari. Iniziamo dal sole 24 ore. Per le banche venete Bad Bank da 20 miliardi. Altri dettagli dunque per il salvataggio delle banche venete. Si valutano le condizioni poste da intesa più ampia del previsto. La quota dei crediti a rischio. Trattativa in salita tra Unione Europea e Governo. In arrivo due decreti e nomine dei commissari. Altra notizia. Fondo italiano. L'offerta di pesenti, cassa depositi e prestiti, intese Unicredit, pronte a decidere sulle partecipate che chiedono continuità. Joint venture con i francesi di Tico sfida alla concorrente Neuberger. Andiamo nel taglio alto. Il focus. Dichiarazioni del 2017. I rap sconti sul personale con il calcolo semplificato. Proseguiamo con Milano Finanza. Atlante blinda le sofferenze di Monte dei Paschi. Il salvataggio ieri vertici a Milano per definire le modalità della cessione dei non performing loans e i crediti non esigibili della banca senese. Accordo raggiunto dei 26 miliardi di crediti deteriorati. Il fondo gestito da Questio sottoscriverà da sola l'intera tranche junior della culturalizzazione per un importo di oltre 1,5 miliardi di euro. E così vedrà esaurirsi la propria dotazione. E poi ecco come sarà il decreto sulle venete. Restando al tema delle banche da salvare, il governo dovrà mettere le due banche in liquidazione coatta e nominare un collegio di commissari. I CDA dovrebbero dimettersi il 27. Lo Stato pronto a iniettare 4 miliardi, ma manca l'ok dell'Unione Europea. E poi faro di Pechino su Rossoneri Sport, il veicolo che ha comprato il Milan. Per evitare i rischi sistemici, l'autority bancaria indaga sull'esposizione dei gruppi che hanno stra-investito all'estero. Continuiamo con Italia Oggi. Aiuti alle start-up ok dall'Unione Europea. Per le persone fisiche, detrazione del 30% dall'imposta lorda fino a un milione. Per le società, deduzione del 30% dal reddito imponibile fino a 1,8 milioni di euro. E poi, già anacquate le vaccinazioni, restano i 12 vaccini, ma soltanto alcuni saranno obbligatori, mentre gli altri saranno solo raccomandati. Proseguiamo con i quotidiani nazionali. Adesso apriamo quelli sportivi. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Il tormentone Donnarumma, Gigio, il cuore, dice Milan. La visita di Montella al papà sembra aver lasciato il segno. E ora i tifosi rossoneri sono pronti a perdonarlo. Nel taglio alto, ecco Spalletti, Borca Valero a classe, so che cambia squadra. Il tecnico non è un mistero che lo cercai a Roma. E ora che la pazza Inter torni a fare delle imprese. Così l'allenatore neotecnico dei Neroazzurri ha ricevuto il premio Ceravolo. Nel taglio basso, Schick Blitz della Juve, visite senza la firma. Il nuovo acquisto bianco e nero. L'attaccante Ceco ha lasciato il ritiro in Polonia per i primi esami medici. Tornerà a Torino dopo l'impegno con la Nazionale. E dopo la promozione in Serie B con il Venezia. Attento, Venezia. L'Albania tenta il colpo in Zaghi, che ci pensa su. Albania, che era guidata dal tecnico De Blasi. E poi, Corriere dello Sport. E se Zatan tornasse in Italia, Ibra Cadabra è il titolo del Corriere. Il fuoriclasse svedese è libero e apre scenari suggestivi. Tifosi di Juve, Roma, Milan, Lazio, Napoli e Inter possono sognare. Intanto, da Donnarumma a Sanchez, tutti gli svincolati del prossimo anno. Nel taglio alto, Pippo. L'Albania lo sceglie come CT. In Zaghi dopo De Blasi, il Venezia potrebbe perderlo. Il rompe la viola, Berardi in arrivo. Bernardeschi alla Juve, pronto l'erede per Pioli. Nel taglio basso, europeo under 21. Così l'Italia vuole mandare a casa la Germania. E poi, che storia, Frosinone. Una scuola calcio con 7.000 cinesi. E la Formula 1 a Baku. Chi mi promette se serve aiuto? Il compagno di squadra, Vettel. Su Tutto Sport, dove sono le anti-Juve? Scopriamo i piani di Napoli e Roma. Le rivali più credibili dei bianconeri negli ultimi campionati. Tre ha di importanti. Iscesni, Salah e Manolas per i giallorossi, che ora possono comprare nel mirino Cartosp, Seri, Lemas e Berardi. Le strategie dei partenopei sono state rallentate dal caso Reina. Per chiudere gli affari Berenguer e Onas serve un'accelerata. Nel taglio alto, Sanchez e Golden Boy per Allegri. Contatti con il Bayern per il prestito del portoghese, che ha vinto l'ultima edizione del nostro premio riservato al miglior giovane europeo. Nel taglio basso, Toro, Piano Baselli per un futuro da leader. Inter sarà Inaki, il nuovo Salah per Spalletti. E la Formula 1, Raikkon, aiuterò Vettel. Questo per quanto riguarda anche i quotidiani sportivi. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore con i nostri meteorologi di Meteo 6. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. In particolare andremo a vedere da vicino altri dettagli dell'omicidio di Sant'Omero. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Come vi abbiamo detto in precedenza, sui quotidiani regionali abruzzesi c'è ampio spazio relativo all'omicidio di Sant'Omero. Ieri la notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell'assassino che si è suicidato. E allora andiamo a vedere i titoli che propongono i quotidiani regionali. Partiamo dal centro suicidio annunciato. Il killer di Esther si è ucciso all'assassino dell'oncologa trovato strangolato in casa. È un ex investigatore di 69 anni. Ovviamente c'è un ampio reportage su quanto accaduto ieri. Un'intervista alla criminologa nel taglio basso. Non ha retto il peso e si è tolto la vita. L'analisi di Margherita Carlini, la sua ossessione doveva essere fermata prima perché la roncola, l'aggressore voleva solo distruggere, è stata la sua risposta violenta ad un rifiuto. E poi bisogna ripartire dall'educazione e insegnare ai giovani rispetto degli altri e la parità di genere. Il capo della polizia è intervenuto ieri su quanto accaduto in Abruzzo. Non possiamo arrestare tutti gli stalker. Per noi questa vicenda è sicuramente una grande sconfitta. Così il capo della polizia che ha anche ricordato come oggi ci sono degli strumenti come l'ammonimento e l'allontanamento che prima non c'erano. Ma evidentemente anche questi strumenti non sono così efficaci come la legge vorrebbe. Il centro ricorda anche i femminicidi nella nostra regione, Melania Rea e le altre, i nove femminicidi dal delitto di Parolisi. Ad oggi la lunga scia di sangue in Abruzzo con le foto delle vittime purtroppo di queste vere e proprie stragi che si stanno compiendo. Andiamo a vedere anche il titolo del messaggero. Adesso si strangola dopo aver ucciso l'oncologa Enrico Di Luca, a 69 anni, trovato morto in una casa di cui aveva le chiavi per manutenzioni a Martinsicuro. Era morbosamente innamorato di Esther Pasqualoni. L'ha fatta finita stringendosi delle fascette al collo. A Roseto eri insostituibile, lutto cittadino proclamato dal sindaco Sabatino di Girolamo. Probabilmente domani saranno svolti i funerali sempre che il magistrato conceda la salma alla famiglia. Era separato dalla moglie, tornando a parlare di Luca, aveva un figlio originario di Isola del Gran Sasso. Ex investigatore privato con lobby della bicicletta e l'approfondimento sull'omicida suicida. E poi nel taglio basso gli sms di Enrico Aester. Non mi consideri più, non lo accetto. Non si rassegnava dunque a una relazione che in realtà era di amicizia e che non è mai diventata d'amore. Alcuni degli sms, se il mio primo pensiero del mattino non buttiamo questi ricordi, di tutto quello che ci ha legato fino ad oggi, giorni belli o brutti che abbiamo trascorso insieme. Ogni giorno che passa vedo sempre più buio totale intorno a me, so sempre male. Dammi un vero segnale che mi vuoi veramente bene, attenderò con pazienza. Nulla è cambiato. Questi sono alcuni dei messaggi che poi sono contenuti anche nella denuncia presentata dalla Pasqualoni per stalking. Andiamo anche sulla città a vedere il titolo del quotidiano della provincia di Teramo. La dottoressa uccise il presunto assassino trovato a casa morto suicida. Enrico Di Luca si è strangolato con una fascetta di plastica all'interno di un'abitazione di cui aveva le chiavi. Conoscenti, amico di tutti, una persona per bene insospettabile di cui la gente si fidava. Questi commenti di chi lo conosceva di vista. Poi Sittini in Piazza Orsini di fronte alla statua della maternità di Crocetti a Teramo. Centro Anna Arendt e Comitato, se non ora quando, commemorano la vittima con un lungo silenzio e delle candele. Come detto, a Roseto sarà lutto cittadino ai funerali, cordoglio della ASL e della ONLUS di assistenza ai malati oncologici. Il Vescovo, per quanto riguarda le reazioni, è una comunità sconvolta da due gravi fatti di sangue. Seccia stigmatizza la violenza. La Pezzopane chiede che le donne siano ascoltate. Adesso, restando sempre all'argomento, andiamo a vedere insieme il servizio. Non ci sarà giustizia, almeno in questo mondo, per Esther Pasqualoni. Le forze dell'ordine, messe sulle tracce dell'assassino dai testimoni dell'omicidio, sono arrivate troppo tardi nell'appartamento di Via Baracca a Villa Rosa di Martinsicuro, dove Enrico Di Luca, 69 anni, ex investigatore privato, ha scelto di togliersi la vita strangolandosi con una fascetta di plastica, forse poco dopo l'omicidio. Parcheggiata sotto casa, è stata ritrovata la 106 Bianca con cui, ieri pomeriggio, armato di una roncola, aveva raggiunto l'ospedale di Sant'Omero. Era lui lo stalker che il 24 gennaio del 2014, la 53enne oncologa di Roseto, aveva segnalato con un esposto al commissariato di Atri, e verso il quale c'era stato un provvedimento di ammonimento da parte del questore di Teramo, con contestuale sequestro del porto d'armi. Evidentemente troppo poco per cancellare dalla mente dell'uomo l'ossessione per la dottoressa, responsabile dei hospital oncologico dell'ospedale della Val Vibrata. Si conoscevano dal 2005 e, come dichiarato alla polizia dalla stessa dottoressa, tra loro c'era una relazione di amicizia decennale. Amicizia sempre più morbosa, diventata patologica quando a fine 2013 l'uomo ha iniziato con pedinamenti e messaggi insistenti. La dottoressa si sentiva spiata e aveva paura, avendo anche perso il marito due anni fa, ed essendo mamma di due figli piccoli che oggi hanno 11 e 16 anni. Nell'esposto per stalking, però, non si parla di aggressioni o minacce, ma di attenzioni insistenti e continue, suffragate da testimoni subito ascoltati dagli investigatori. In via Baracca di Luca lo conoscevano tutti ed era amico di tutti. Prendeva il caffè sempre al solito bar e i condomini spesso gli lasciavano anche le chiavi delle proprie abitazioni perché si occupava di piccoli lavori. Un insospettabile, insomma, secondo un cliché ormai consueto per questi fatti di sangue. Mai ho avuto il sentore che potesse capitare una cosa del genere, anche perché sembrava una persona normalissima a tutti gli effetti. Come ho detto in un'altra intervista, la stessa cosa, ripeto a voi. Era un uomo di un'educazione, non dico unica, ma come tutte le persone normali. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Apriamo la pagina di Pescara del centro. Squillo pericolosa, sapeva di essere malata, arrestata. La prostituta con l'HIV ha messo a rischio i suoi clienti e durante una rapina ha minacciato un commerciante dicendogli di avere l'AIDS. E' accusata di tentate e lesioni gravissime e l'ex convivente l'ha denunciata dopo aver capito il pericolo. Le ho offerto la mia casa, non ha mai detto nulla sulla malattia nei verbali della polizia. Le parole dell'ex convivente che ha ospitato per quattro mesi Iole Marafini. Non aveva un posto dove dormire, voleva liberarsi dalla droga. Anch'io ho avuto problemi con la tossicodipendenza, dichiarato ai poliziotti. Poi sono riuscito a liberarmene, mi sono sentito coinvolto e ho cercato di aiutarla. Solo di recente ho saputo che era affetta da HIV e epatite C, ho avuto paura di essermi ammalato e sto facendo i controlli. Finora non risulto contagiato. Nel taglio alto si ricorda l'ordinanza del sindaco di Pescara. Sanzioni fino a 500 euro per gli automobilisti che ingaggiano l'ucciole in strada. Possiamo andare a vedere anche questo servizio relativo alla conferenza stampa tenuta dalla polizia ieri in questura a Pescara. Abbiamo ritenuto prevalenti le esigenze investigative, non solo, ma innanzitutto quelle di tutela della salute pubblica e anche quelle delle singole persone che possono aver avuto contatti con lei. Riteniamo che ci siano ancora altre persone che non si sono presentate per paura o per vergogna, quindi rinnoviamo l'invito fatto l'altra volta a presentarsi qui da noi. Iole Marafini si è prostituita nella zona della stazione centrale di Pescara almeno fino allo scorso 3 di maggio quando per una tentata rapina ai danni di un negozio gestito da cinesi è stata arrestata. La donna, 36enne, originaria di San Benedetto del Tronto, pluripregiudicata e tossicodipendente, è affetta da AIDS e da epatite C, ciò nonostante ha continuato a prostituirsi per procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga. La squadra mobile della questura di Pescara, nell'ambito di una precedente indagine che ha debellato alcuni gruppi criminali albanesi e romeni dediti allo sfruttamento della prostituzione nella zona di Pescara Centro e della Pineta D'Annunziana, aveva individuato la donna e lanciato un appello affinché clienti o conoscenti si recassero in questura a sporgere denuncia. Appello che ha sortito l'effetto desiderato perché alla polizia è arrivato un ex fidanzato della donna che l'ha riconosciuta e ha raccontato di aver avuto rapporti non protetti con lei perché ignare o del pericolo. Racconto che ha fatto scattare la custodia cautelare in carcere decisa dal GIP del Tribunale di Pescara, Elio Di Bongrazio, con l'accusa di tentate e lesioni gravissime. Tentate perché l'uomo ora sta bene e al momento non ha contratto alcuna malattia. È una misura estrema, quella della custodia cautelare in carcere, che si è resa necessaria visto il comportamento spregiudicato che questa persona ha tenuto negli ultimi tempi. Non c'è solo il discorso della prostituzione, sul quale attendiamo ancora riscontri di clienti che non si sono presentati in questura, ma si è presentato qui da noi l'ex convivente, ma non c'è solo questo discorso della prostituzione, come dicevo, ma si è verificato anche un episodio molto grave nel corso di un furto, lei ha opposto resistenza al proprietario che cercava di bloccarla e poi gli ha sputato in faccia minacciandolo che l'avrebbe infettato perché è portatrice di queste patologie. Torneremo alle altre notizie di Pescara. Tra poco invece risaltiamo in provincia di Eteramo, restando sempre alla cronaca. ha trovato il coltello che ha ucciso Spinelli dalle pagine della città, l'arma del delitto abbandonata a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri. Questo per quanto riguarda il delitto di Alba Adriatica che ha visto perire Emanuele Spinelli. L'autopsia ha confermato che il colpo mortale per il 22enne Rom è stato quello inferto al cuore. sempre da questa pagina nel taglio basso, si tinne davanti al tribunale contro l'archiviazione di Giulia, il gruppo Domenico Canosa si è riservato sulla decisione per quanto riguarda l'indagine sulla ragazza morta gettandosi dal cavalcavia della 14, il 1 settembre del 2015. Ora torniamo alle notizie da Pescara e proseguiamo con la lettura del centro progetti per l'estate. Voglio la riviera senza auto nei weekend. Alessandrini propone la sperimentazione di un'isola pedonale per aumentare la sicurezza durante di eventi pubblici. La politica Teodoro blocca il Consiglio, stoppa il debito del Comune, la lista civica tiene in scacco, la maggioranza fa litigare anche l'opposizione, rinviato ancora il pagamento di 190 mila euro a favore del Consorzio Industriale. Intanto in via dei Marsi l'acqua è buona, il sindaco revoca il divieto, le analisi danno esito favorevole. Una mattonelle ricordo di Jennifer, oggi la cerimonia in piazza Salotto, al via il trofeo di pattinaggio in suo nome per quanto riguarda un'altra vittima del cosiddetto femminicidio. Proseguiamo sulle pagine del quotidiano Il Centro. L'ASL multa i dirigenti che litigano con il pubblico. approvati i nuovi codici disciplinari, sanzioni di 500 euro per gli alterchi in ufficio, scatta la sospensione senza stipendio in caso di ingiurie contro i vertici aziendali. Vedete proprio le nuove regole richiamate in questa infografica. Proseguiamo sempre sulle pagine di Pescara. Maturità, festa, riti e ansia in classe con l'acqua santa per benedire i compiti. Gli studenti archiviano la seconda prova tra matematica e versione di latino e ora si pensa alla tesina con la mente già proiettata alle scelte per quanto riguarda l'università. Andiamo a vedere anche il messaggero sempre dalle pagine di Pescara. Maturità, l'incubo della ruota quadrata. La seconda prova da brivido nei licei scientifici Galilei e Da Vinci. Problema impossibile da risolvere, dicono in coro gli studenti. Atmosfera serena al classico dove la versione di latino è riservato gli agevoli versi di Seneca, dicono è stato facile. Proseguiamo sempre con la lettura delle pagine di Pescara del messaggero. L'estate è blindata, fa una vittima, slitta la festa di Radio Delta, prescrizioni rigidi della questura in base alle circolari Gabrielli. Dopo i fatti di Torino servono steward e controllo degli ingressi. Andiamo avanti, torniamo sul quotidiano Il Centro. Ancora notizie dall'area metropolitana. La pagina di Montesilvano, edificio abbandonato, Stella Maris, lavori fermi, nuovi assalti dei disperati. Ennesimo tentativo dei senza tetto di buttare giù i muri di recinzione all'ingresso dell'ex colonia in cerca di un riparo di Marco. Il cantiere aprirà entro pochi giorni. Turismo, la partenza è in salita, Federalberghi, calo del 20% a giugno, ci penalizza la cattiva immagine dell'Abruzzo. Sempre le notizie dall'area metropolitana. Proseguiamo con l'ospedale. Nuova protesta a Pescara fissata per il 29. Per quanto riguarda il San Massimo di Penne, riparte la mobilitazione in attesa della decisione del Tar contro il declassamento dei reparti. Movimento avanti tutta e a popoli i cittadini scioperano domani. Continuiamo con la lettura dei nostri giornali e delle pagine interne. Adesso lasciamo Pescara e passiamo al capologo di regione, l'Aquila. Dalle pagine del messaggero, la carta delle valanghe paralizza il Gran Sasso. Progetto Montagna presenta osservazioni sul documento approvato dalla regione. Rischio generalizzato e non localizzato, così l'intera area dovrebbe essere chiusa. Lo studio è arrivato all'indomani della tragedia di Rigopiano, sospesa l'edificabilità di ulteriori opere. Poi Toschi sarà potenziata la scuola di Coppito della Guardia di Finanza. Per sempre per quanto riguarda il capoluogo, se di sicure per le scuole entro settembre anche facendo accorpamenti, quello che promette come obiettivo di Benedetto per quanto riguarda le elezioni nel campo del centro-sinistra. Per il centro-destra i primi 100 giorni di biondi, consulta dei quarti, meno tasse e rigenerazione urbana. Il candidato ha presentato un piano concreto e attuabile. Duro attacco sulla sanità, cartelli contro D'Alfonso e Tordera. Proseguiamo sempre sul messaggero. La pagina di Avezzano sul Monaco, Santa Croce, indagata la Flacco, il blitz allo stabilimento. La dirigente regionale si era recata a canistro per ottemperare alle richieste decise dal lente. Un esposto del patron Colella mette al centro la funzionaria nella nota vicenda della confisca delle bottiglie. Dunque prosegue questa battaglia giudiziaria. Andiamo sul quotidiano Il Centro, sempre per quanto riguarda le altre province. Andiamo a Chieti. Cura dei tumori, radioterapia ancora bloccata, liste di attesa di sei mesi. Rotto dal 29 maggio, uno dei due macchinari in uso al reparto del professor Genovesi. Per circa 300 pazienti slittano le sedute, molti costretti a rivolgersi in altre strutture. E poi niente più funerali nelle ZTL a Lanciano, proposta sciocche delle associazioni, servizi cimiteriali sempre più salati e nel taglio basso finire bruciato alla festa del paese a Dogliola. Continuiamo con la pagina di Chieti. Adesso però andiamo sul messaggero. L'estate è un tour nel degrato, il comune cerca ancora soldi per settimana mozzartiana, concerti e stellari. Il volto della città inadeguato agli eventi. L'assessore di Felice è possibile svolta con un grosso finanziamento in arrivo. L'incidente è un ramo, provoca lo schianto, condannata la provincia. Nel taglio basso, mucche con assegni cabriolet, una condanna per un allevatore teatino. Torniamo a Lanciano, multe, lo sciopero del caro estinto, notizia che abbiamo visto anche in precedenza. Le imprese non effettueranno più le sequie funebri nelle ZTL. Se il comune non autorizzerà la sosta delle auto dei familiari, non è giusto sanzionare i mezzi fermi vicino alle chiese in un momento così difficile per i parenti delle vittime. Tra l'altro le associazioni delle agenzie funebri contestano anche l'aumento delle tariffe dei servizi cimiteriali. Vediamo tutto nel prossimo servizio. A Lanciano anche morire sta diventando un lusso, almeno secondo quanto denunciano le agenzie funebri aderenti alle associazioni di categoria Anifa e Casa Artigiani, che contestano l'aumento incontrollato delle tariffe per servizi e operazioni cimiteriali, in alcuni casi addirittura triplicate, come per la tumulazione che passa da 50 fino a 180 euro, a seconda della postazione dell'oculo, o decuplicate, come nel caso della rimozione e posa della lapide, passando da 12,20 euro a 134,20. Le imprese contestano la delibera comunale del febbraio scorso, in cui si stabiliscono non solo gli aumenti, ma anche i costi aggiuntivi per i nuovi servizi, precedentemente non contabilizzati, poiché compresi nelle tariffe in vigore. Contestualmente le agenzie funebri puntano il dito contro i tentativi di monopoglio da parte della società Anxanum Multiservizi Intercomunali S.p.a. del Comune di Lanciano. Il sindaco, quando abbiamo avuto una riunione, dove si parlò proprio di questo aumento delle tariffe, dove noi sia giudicammo non congruo l'aumento delle tariffe, soprattutto in considerazione del fatto che il Comune aveva l'obiettivo di ridurre queste tariffe attraverso l'affidamento a una multiservizi. Ma soprattutto non si capiva come poteva, da dove usciva fuori la convinzione che le attività cimiteriali le poteva svolgere solo la società. Anche nella tabella delle tariffe si esplicita proprio il fatto che alcune attività sono esclusiva di questa società, milantando delle responsabilità sulla sicurezza degli utenti, cosa che noi contestiamo. Altre notizie dalla provincia di Chieti. Magnacca bis, presentata la squadra, la novità e la vice Maria Travaglini per quanto riguarda il Comune di San Salvo e poi la Fondo Valle Sangro, 11 le offerte per l'apertura delle buste che ci sarà fra 5 giorni. Andiamo nel Terramano, anzi torniamo nel Terramano con le pagine interne della città. In particolare andiamo a vedere la pagina che riguarda la crisi in Comune. Due dissidenti passano all'opposizione Caccioni e Falasca scontenti della giunta ad otto parata dal sindaco Brucchi. Entrano nel gruppo misto con la Cardelli. Mozione di sfiducia. I due dissidenti si dicono pronti a valutare se mettere la firma sulla mozione di sfiducia al sindaco delle minoranze. Questo per quanto riguarda la crisi in Comune che prosegue su questa pagina. La strada di Brucchi è segnata, questione di tempo, non di numeri. L'analisi non c'è più la maggioranza. Tre le ipotesi, mozione di sfiducia, dimissioni dal notaio o addio anticipato del sindaco. Guido Campana potrebbe dimettersi per non sfiduciare Brucchi. Di subentrerebbe un fedelissimo Dalmata pronto a staccare la spina. Andiamo adesso alla pagina dello sport. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere le notizie che riguardano principalmente in apertura il Pescara. Ovviamente a tenere banco e il mercato. Pescara prima le cessioni per risistemare il bilancio. La società ha lavoro per definire operazioni in uscita entro fine mese. Restano sette giorni per cedere i pezzi pregiati e liberarsi dei loro ingaggi. I primi fra tutti Zampano, Biraghi, Benali, Culibali e Memusciai. Salvo sorprese la prossima settimana verrà ufficializzato Gans. La dirigenza attende risposte per Pessina e Vido. Le alternative al centrocampo in attacco restano Vitale e Tumiello. Bruno richiesto dal Lecce. Poi Vivarini, Empoli, Belbanco di Prova. Il nuovo allenatore abruzzese e diari è stato presentato ieri in Toscana. Proseguiamo con la Lega Pro. Qui Teramo. Repetto a Milano per definire i primi rinforzi. Valagusse e Davi piacciono ad asta. Si fa il nome di potenze. Campitelli prepara la documentazione per l'iscrizione al campionato. Andiamo a vedere anche il messaggero per quanto riguarda la pagina dello sport. Mi fido del nuovo Pescara. Parla l'ex DS Biancazzurro Iaconi. Zeman una garanzia per il gioco. Mancuso e proietti pronti per la Serie B. Ok ai giovani ma spazio e primavera di proprietà. Uno come Benali potrebbe fare anche la differenza. Il mercato. Pessina tra spalle e spezia. Via Brugman. L'interrogativo posto dal messaggero. E poi per quanto riguarda il Teramo. Valagusse un regista per asta. Il centrocampista era il Gubbio. Ed è un ex dell'allenatore. Nel birino anche Calore, Ventola e Diallo dal Delfino. Andiamo a vedere anche il titolo della città. Questa volta esclusivamente sul Teramo. Allora recuperiamo la pagina dello sport della città. In casa Teramo ora è tempo di consultazioni. Dalla prossima settimana dovrebbero iniziare i colloqui con i giocatori per capire chi rimarrà e chi dovrà andare via. Polidori si complica. L'attaccante di scuola Pescara potrebbe non arrivare. Molto calda invece la pista che porta a Bruno. risparmiare è una necessità. Con gli elementi che non fanno più parte del progetto si cercherà una soluzione che accontenti anche la società. Passo necessario potrebbe risultare il cosiddetto incentivo all'esodo. Questo scrive Jacopo Forcella. Andiamo ad ascoltare anche il suo servizio. Paolo Valagussa e il desiderio. Alessandro Bruno una possibilità più che concreta. Il centrocampo del Teramo presto potrebbe avere una fisionomia molto diversa e subire per primo quella rifondazione che molti si aspettano. Ci vorranno le uscite prima. Le entrate verranno successivamente anche se nelle ultime ore la strategia potrebbe ribaltarsi. Il centrocampista lo scorso anno al Gubbio è in cima alla lista dei desideri di Antonino Asta. Più di Davi della Feralpi Salò. Valagussa peraltro piace e come anche a Giorgio Repetto che lo seguì qualche stagione fa e che avrebbe potuto portare anche a Pescara. Dunque è lui il primo obiettivo di mercato posto che nella collaborazione con Pescara gli arrivi dalla casa biancazzurra saranno certamente meno complicati. Le insicurezze maggiori sono nel reparto arretrato perché Caidi, Speranza e Altobelli rimarranno in bianco rosso e di conseguenza la difesa potrebbe subire, a differenza degli altri reparti, da rifondare totalmente solo un restyling anche se sostanzioso. Mancano gli esterni e allora ecco che Ventola proprio dal Pescara potrebbe fare al caso del diavolo e mancano i ricambi dei due titolarissimi. Ma sono questioni che Repetto affronterà con calma perché le priorità adesso sono le altre zone del campo, quelle sotto la lente di ingrandimento. Probabile che in pochi si salveranno da questa mezza o totale rivoluzione. Anche chi come Amadio e Di Paolo Antonio sembravano poter far parte della rosa della prossima stagione. Con Sanzovini si cercherà un accordo per trovare la strada migliore sia per il ragazzo che per la società. È evidente che non abbia sfondato soprattutto nel cuore della tifoseria. E la questione ambientale l'anno prossimo sarà fondamentale per una squadra che ha come primo obiettivo assoluto la salvezza e che avrà bisogno della vicinanza della propria tifoseria per sostenere anche quelle settimane nelle quali arriveranno delle sconfitte. Questione di ritiro. Il 19 luglio con ogni probabilità via la preparazione precampionato dal Fedena, ma c'è la possibilità che il raduno possa essere anticipato di due giorni, dal 17 fino al 31 luglio. Per l'inizio del ritiro è evidente che Asta dovrà barcamenarsi con una rosa che poi non sarà quella definitiva. Lavorare su quei giocatori nuovi che saranno già a sua disposizione e su quelli che c'erano anche la stagione passata per cercare magari di ritrovarne la migliore condizione, soprattutto psicologica. Continuiamo con lo sport. Andiamo in serie di L'Aquila, fumata bianca per la nuova società, scrive il messaggero. L'accordo c'è, il passaggio di quote in seno all'Aquila Calcio è praticamente cosa fatta? L'atteso vertice di ieri a Roma si è chiuso con una fumata bianca. Non ci sono al momento comunicati ufficiali, è probabile che arrivino oggi. Si sa che la settimana prossima l'intesa sarà ratificata direttamente attraverso il commercialista, senza passaggi al notaio. Alla fine è andata così come era atteso. La nuova proprietà è composta da tre soci. Il presidente designato è Umberto Fioravanti, con accanto Massimo Gizzi e Ernesto Penzi. Sempre per la Serie D il Pineto è su Borrelli e Favilla. In eccellenza invece del Gallo è il nuovo mister dell'Acqua e Sapone. Andiamo adesso al basket, restando sempre sul messaggero. Roseto, primo colpo, arriva Ion Lupusor, nuova alla grande, classe 96, alto 2-0-2. L'anno scorso era a Reggio Calabria. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Arbitri e assistenti, ecco promossi e bocciati. Il bilancio abruzzese della stagione. Urssini e Romanelli salgono nella Cannes Scambi. Gregoris e Di Cicco di il Terramano Feliciani in corsa per un posto in Lega Pro. Poi per quanto riguarda i dilettanti, dalla terza alla seconda categoria, lo Sporting Castrum Rosciano, un gruppo di amici in trionfo. Decisiva la sentenza del giudice sportivo. La Riali si gode la promozione conquistata a spese del Rapino. E poi l'ultimo club promosso in seconda. La San Salvese è subito protagonista al primo anno di attività. Ritroviamo l'accordo per la cessione dell'Aquila. Branicchi intanto dice sì all'Avezzano. Per quanto riguarda la Serie D, il Pratola dovrebbe giocare a Sulmona e scoppia la polemica. Il ciclismo il 16 luglio, la settantesima edizione. Ciccone la nazionale al trofeo Matteotti. Il Tiatino è una squadra azzurra tra i protagonisti annunciati della corsa che l'anno prossimo cambierà data al via anche la Nippo Vini-Fantini e la GM Europa Vini. Il 6 luglio la presentazione all'Aurum. Nel taglio basso, nel weekend, calcio, futsal e volley. La Tri Cup decolla. Continuiamo con l'ultima pagina dello Sport del Centro. Beach Volley. Da oggi e domani sera caccia agli eredi del campione Nicolai. A Pescara le migliori coppie Under-23 si daranno battaglia nel torneo organizzato dall'Ortonese Argento a Rio 2016. Poi ritroviamo la notizia di Lupusor a Roseto, che ora punta Marulli. e poi l'epodismo a Dugna davanti a Di Cecco alla corsa del Solstizio. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 si ferma qui, torna domani alle ore 8. La nostra informazione oggi con il TG6 invece torna alle 14, alle 19 e alle 23 come di consueto. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.